Davi Lopez, verso Cagliacol, spizza bene per Higuain, mette giù il pallone, Gonzalo Higuain, allarga verso Mertens, punta l'avversario che è Richard, Mertens il destro, aderrete, si, go, chi è la rete, 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 Trilly Mertens, Trilly Mertens, la grande gioia del nostro folletto magico, soltanto opere d'arte, nella sua piratoteca personale, Trilly Mertens, che fa abbracciare tutto il gruppo, questo è il segnale che volevamo, è così che volevamo il Napoli, da tempo, da quando questa squadra non riusciva ad esprimersi più al meglio, adesso l'abbraccio allargato a tutta la panchina, ha innescato, ha innescato il movimento giusto, Trilly Mertens, su questa imbeccata di Gonzalo Higuain, Mertens ha trovato lo stilaglio adatto e ha beffato Neto con questo tiro, come sa fare lui, Trilly Mertens, innesca la giostra azzurra, che può mettersi nuovamente in movimento, con tutti i tifosi del Napoli, che finalmente hanno un sorriso, una gioia, in mezzo a tante amarezze, Trilly Mertens, tra l'altro, il suo primo gol in Serie A. Albiol, Amsic può girarsi, rimette molto bene per Cagliacom, che è stata in posizione regolare in seguito da Savic, ancora Cagliacom, Maggio, ottimo il suggerimento per Gargano, Cagliacom, in aria, a cercare Amsic, il tocco, ed errate, si conchialerete, si conchialerete, si conchialerete, si conchialerete, l'urlo srenato del nostro capitano, mostra le fauci, fai brillare le zanne, grande Marek Amsic, fai sventolare sempre la tua cresta, così come piace a noi, entra in campo e segna, I grandi fanno in questo modo, come ha fatto Marek Amsic, entrato in campo al diciannovesimo e dopo soltanto sei minuti ha messo in rete la palla del 2-0, quella che dovrebbe servire al Napoli per vincere questa partita, ma giochiamocela fino alla fine, Marek Amsic porta il Napoli sul risultato del 2-0, il nostro grande capitano, Marek Amsic, con la punta della scarpa, un po' ci ha battato, ma riesce a superare Neto in uscita, guardate qui, ha rubato il tempo all'avversario e poi la palla in porta e ha fatto sventolare ancora la sua cresta, come una bandiera, fallo come una bandiera, perché tu sei la nostra bandiera! Napoli in festa, tifosi invisibilio, Giostra che riparte velocemente! Punta l'avversario che è Michael Richards, mette in mezzo, attenzione, Cagliacol! Non è rete! Sì, gol! Vienerete! Sì, gol! Vienerete! Sì, gol! Vienerete! E finalmente, sì, scrollati di dosso, tutta quella robaccia che ti eri rimesso, che ti eri ormai tatuato sulla pelle, era del 6 gennaio, che non segnava un gol, José María Cagliacol, quanta rabbia, quanta delusione adesso, finalmente, regalaci un sorriso per ogni tanto, caballero triste, hai segnato un gol, soprattutto per il merito di Mare Kamsik, che aveva rubato un pallone, poi il signet l'ha recapitato direttamente sul piede destro, non ha dovuto fare altro che mettere la palla nella porta per questo 3-0 del Napoli! Ha segnato il caballero triste, José María, Pepe, Cagliacol, al suo decimo gol, in questo campionato, sono 24 complessivi, nella sua trentesima presenza non andava a bersaglio!